In una settimana aumentano in maniera esponenziale i vaccinati in Abruzzo dopo l'apertura agli over 60 della quarta dose, in crescita in tutte le province che si attrezzano grazie alle ASL per potenziare i servizi. A fare il punto nel capoluogo adriatico come nella regione, il dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale dell'ASL di Pescara. Abbiamo aumentato il centro vaccinale dell'ex Lidl sia come numero di medici presenti, sia come giornate di apertura. Siamo aperti il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13. C'è stato un incremento notevole delle vaccinazioni, perché secondo lei? Sì, nell'ultima settimana si sono triplicati il numero di vaccinazioni, siamo stati da 500 a oltre 1.500. è dovuto al fatto che tanta gente si è un po' spaventata della ripresa del numero dei positivi, che è aumentato anche questo immagino esponenziale. E' questo l'andamento anche in tutta la regione, nelle altre province? Sì, tutte le province hanno adeguato i loro centri vaccinali a quest'aumento della richiesta, quindi aumentando anche l'offerta e anche nelle altre province si è triplicato il numero dei vaccini. Un aumento in regione di quanto in percentuale? Del 200%. Rispetto a? Rispetto alla settimana scorsa, dove facciamo 500 vaccini all'incirca la settimana, siamo arrivati a oltre 1.800 vaccini. Per quanto riguarda il vaccino a più ampio spettro in autunno? Le notizie sono che tra settembre e ottobre dovrebbe arrivare questo nuovo vaccino, sempre mRNA, che dovrebbe coprire non solo il ceppo originario di Wuhan, ma anche l'Omicron. Il dottor Di Luzio precisa che è bene utilizzare ancora la mascherina al chiuso e in luoghi affollati e non abbassare la guardia e a chi vuole mettersi in viaggio. È bene vaccinarsi prima della vacanza, almeno 15 giorni prima della vacanza, perché poi i posti di vacanza sono anche i posti più affollati, per cui il rischio aumenta. Quanto all'ipotesi di un altro centro vaccinale a Pescara? Stiamo valutando, vediamo come va la vaccinazione. Voglio dire anche che per quanto riguarda l'entroterra, appenne il 28 luglio, ci sarà una seduta vaccinale su prenotazione. Mentre nella Val Pescara, con la collaborazione dei medici di famiglia dell'UCCP di Scafa, stiamo effettuando le vaccinazioni. Oggi al centro vaccinale dell'ex leader di Colle Renazzo a Pescara non ci sono code, ma specificano i medici solo perché non tutti hanno ancora avuto notizia della giunta di un quarto giorno, cioè il lunedì. La dottoressa Olga Iaima Rivie. Nelle settimane scorse abbiamo visto che c'è stata una grande affluenza delle persone, soprattutto per fare le quarte dose. e soprattutto diciamo che abbiamo cercato di organizzare tutta questa affluenza perché non ci aspettavamo questo numero di persone. Non si è accorto che già è stato vaccinato? Nulla di nulla, nemmeno una carezza. Perché ha scelto di fare la quarta dose? Anche per timore della recrudescenza del virus? Sì, che già in giro ce n'è abbastanza. Non ce l'aspettavamo quest'estate. Grazie.